Il lato scuro della luna. Il calcio della Fiorentina. Testa tra le nuvole. Un'intelligenza artificiale che genera immagini a partire da testo. Ciao intelligenze naturali da me e dal pollo Watzlawick. Vi sarà sicuramente capitato negli ultimi tempi di vedere sul web immagini come queste che sono generate da macchine, da intelligenze artificiali. Si tratta di sistemi che prendono in input un testo chiamato prompt e sono in grado di generare delle immagini, illustrazioni, quadri, immagini fotorealistiche. A guardarle si ha davvero l'impressione di trovarsi di fronte a delle macchine creative. Tutti noi ci meravigliamo di fronte a sistemi del genere. Alcuni si spaventano, altri li vedono come un supporto al proprio percorso. Io e il pollo Watzlawick vi proponiamo una bella carrellata dei migliori sistemi di intelligenza artificiale per la generazione d'immagine attualmente in circolazione con delle demo. Poi andiamo a vedere un po' come funzionano sotto il cofano senza equazioni e senza codice e per finire cerchiamo di capire come utilizzarli a proprio vantaggio. Madonna che caldo! L'intelligenza artificiale o modello più famoso di questa famiglia si chiama DALLI2. Proviamo a vedere come DALLI2 traduce in un'immagine questo input o prompt testuale, questa frase. Un pollo fotorealistico insegna intelligenza artificiale. Come si può vedere è assolutamente fantascienza. Si possono anche creare delle variazioni cambiando di poco il prompt, ad esempio chiedendo digital art, arti digitali invece di un'immagine fotorealistica. Non solo, con DALLI si possono creare delle varianti a partire da immagini che lui stesso ha già generato, come in questo caso. DALLI2 è la seconda versione di DALLI, che è il sistema che un paio di anni fa ha fatto il giro del mondo per essere stato il primo a generare immagini di una certa qualità. Entrambi vengono da OpenAI, che sono gli autori anche di modelli di linguaggio, intelligenze artificiali che generano test, immaginate dei chatbot, in particolare uno dei più avanzati al mondo che si chiama GPT-3, di cui parleremo nei prossimi video. Sotto il cofano c'è un modello di Deep Learning, una simulazione del tessuto nervoso che abbiamo nel cervello. Questa simulazione, questo piccolo cervello artificiale, contiene 3 miliardi e mezzo di connessioni, paragonabile al cervello di un insetto, e impara a generare immagini a partire da una grande pila di dati che contiene testo-immagine, 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 poi in una fase successiva, a partire da un qualsiasi testo, è in grado di allucinare un'immagine. Nella terza parte del video vediamo un po' più nel dettaglio come funziona. Addestrare questi sistemi è molto costoso, si parla di milioni di euro. Oltre a racimolare da web un data set di 500 milioni di immagini associati al relativo testo, in OpenAI hanno avuto bisogno di una rete di computer con centinaia di GPU, con centinaia di schede grafiche per fare questo addestramento. Al momento DALLI si può approvare in beta, tramite un'email ci si scrive e loro a scaglioni accettano delle persone. Contiene già un sistema di crediti per cui un po' si può usare gratuitamente se si viene accettato in questa lista della beta, un po' poi si può pagare per avere il servizio in ulteriore utilizzo. I giganti del digitale chiaramente non stanno a guardare e si stanno tutti muovendo nei confronti di questa corsa alle armi per la generazione di immagini. Google ha già annunciato ben due sistemi in grado di generare immagini, uno si chiama Party e l'altro Imagine, di entrambi si parla sul loro blog della ricerca, ma non è ancora possibile provarli da quello che ho visto. Imagine in particolare sembra essere ancora più potente di DALLI per quanto riguarda espressività e definizione delle immagini. Da Microsoft invece arriva VQ Diffusion, che è un sistemino piccolo, è open source ed è un po' deboluccio diciamo, ma considerate che Microsoft è già in collaborazione con OpenAI, gli autori di DALLI, hanno già acquistato da loro GPT-3 e quindi probabilmente già stanno collaborando anche al servizio DALLI. Facebook invece sta lavorando su Make a Scene, un sistema anche questo di generazione che però non è stato tanto pubblicizzato e sembra avere a che fare con un progetto un po' più a lungo termine che non riguarda tanto le immagini quanto oggetti 3D e scenari da utilizzare nel metaverso. Ma quanto ti piace il metaverso? Zack è fissato col metaverso. Da un laboratorio di ricerca indipendente viene invece MidJourney. Se gli passiamo il nostro prompt sul pollo fotorealistico che insegna intelligenza artificiale otteniamo risultati di questo tipo. Anche questo è un sistema potentissimo di generazione e forse più orientato da artisti e designer che generalista come DALLI. È già disponibile per MidJourney un abbonamento mensile e se lo volete provare gratuitamente vi lascio in descrizione il link al Discord del pollo Vazlavik dove semplicemente scrivendo slash imagine e il vostro input testuale si può vedere MidJourney quale immagine tira fuori. Cliccando sui pulsantini potete anche chiedere delle immagini a maggiore risoluzione oppure varianti delle immagini già generate. Tra l'altro si può osservare dal vivo questa diffusione cioè questo passaggio da un'immagine a bassa risoluzione a un'immagine a risoluzione via via più alta che è centrale in sistemi di questo tipo. Ne parliamo alla fine del video nel dettaglio. I sistemi più potenti che abbiamo visto finora sia DALLI che MidJourney non sono sistemi aperti, sono privati, li lasciano utilizzare al pubblico per poterli poi vendere come servizi o capitalism. Per fortuna anche il mondo dell'open source si sta muovendo al riguardo e ci sono ben due progetti che vi voglio segnalare. Uno si chiama Crayon che è uscito poco dopo la prima versione di DALLI e si chiamava al tempo DALLI Mini, una versione piccolina che si poteva far girare su una sola macchina in casa di DALLI. A DALLI Mini OpenAI ha fatto cambiare il nome con minacce legali. Al momento DALLI Mini si chiama Crayon e stanno andando per conto loro, si sono messi su un bel sitrello in cui si può provare Crayon direttamente online, vi lascio il link in descrizione, e pianificano di renderlo sempre più potente. È comunque un sistema piccolo, ma è stato il primo ad essere veramente aperto open source. Il nuovo invece tentativo open source che sta facendo Scalpore è quello di Stability AI, che con il suo modello chiamato Stable Diffusion, torna alla diffusione, vuole rilasciare al pubblico un sistema all'altezza di DALLI, di MidJourney, di Imagine, senza vincoli. Si tratta di un'iniziativa parecchia ambiziosa e che farà sicuramente parlare tanto, perché rilasciare modelli di questo tipo non solo crea competizioni ai più grandi che faranno di tutto per non farglielo fare, ma soprattutto modelli non filtrati permetteranno a persone malintenzionate di generare immagini di tanti tipi che potrebbero creare problemi. Immagini che contengono violenza, sessualità, simboli particolari. Ma non vi preoccupate perché vi tengo aggiornati. Abbiamo fatto la nostra carrellata delle intelligenze artificiali in grado di generare immagini, a partire da frasi, a partire dal cosiddetto prompt. Per chi di voi è riuscito ad arrivare fin qui, il premio sarà di capire un po' meglio come funzionano. Stiamo parlando di una rete neurale o modello di deep learning, una simulazione del tessuto nervoso che è in grado di imparare dai dati. Il punto di partenza è un dataset molto grande che contiene immagini associate a una descrizione dell'immagine stessa. Dataset di addestramento sono i dati da cui queste intelligenze artificiali impareranno a passare da testo a immagini. Ci sono anche sistemi, al momento non così tanto famosi, chiamati di captioning, che fanno il contrario, ricevono in input un'immagine e tirano fuori una frase che descrive l'immagine. La tecnica centrale della generazione di immagini si chiama diffusion o diffusione. Immaginate di prendere un'immagine e aggiungere via via a questa immagine sempre più rumore, andando a perturbarla sempre di più. Questa qui è la diffusione in avanti. Dopo aver fatto questo facciamo la diffusione all'indietro e qui entra già con la nostra intelligenza artificiale, diamo in input l'immagine con dentro il rumore e cambiamo le connessioni interne di questa rete neurale per fare in modo che impari con milioni di esempi a togliere di mezzo il rumore. Se questo processo va a buon fine avremo una rete che è in grado di, a partire da rumore, immaginate come quando i vecchi televisori gli staccavi l'antenna e faceva... Data in input un'immagine di rumore, questo sistema è in grado di tirare fuori un qualche tipo di immagine. Oltre a questo chiaramente vogliamo che ci sia anche il nostro prompt, il nostro input a guidare la generazione di immagine e per questo si parla di Text Guided Diffusion, diffusione guidata da testo. La rete oltre a partire da rumore e fare la diffusione di questo rumore, cioè riportare il rumore a quella che è un'immagine intellegibile, deve anche fare in modo che questa generazione sia vincolata, sia condizionata dal nostro input testuale. Chiaramente è un po' più complicato di così, c'è di mezzo anche l'embedding del test e delle immagini. Se volete un approfondimento sugli embedding vi consiglio di guardare il video su come funziona Tinder. Comunque, capito il concetto di diffusione guidata da testo, capito come funziona Dally 2, Mid Journey e compagnia cantante. È come se la macchina scolpisse un'illustrazione a partire da rumore e delle parole. Portando questo discorso il più a terra possibilmente, quindi lasciando da parte la fantascienza e cercando di capire quale sarà l'effetto di questi sistemi nel nostro quotidiano, ci sarà sicuramente una rivoluzione totale di quello che è il mondo dell'arte, del design, dell'illustrazione, della fotografia, in generale della creazione di contenuti. E per chi fa queste cose di lavoro è anche facile spaventarsi se vi mettete nei loro panni perché... Cerchiamo però di guardarla in positivo e capire come cavalcare l'onda invece di esserne travolti. Il primo aspetto positivo di questi sistemi è che possono essere utilizzati per generare una bozza o una serie di stimoli nella fase di ricerca del designer e poi il designer li combina in qualcosa di totalmente nuovo, un supporto alla creatività e non un sostituto. Questa storia del supporto dell'uomo e la macchina in collaborazione o in gergo tecnico human in the loop sta succedendo in parecchi ambiti diversi. C'è addirittura chi parla di nuove professioni come quella del prompt designer. Dato che questi sistemi generano immagini a partire da un prompt, da una frase e cambiando anche di poco questa frase si ottengono risultati radicalmente diversi, può diventare un mestiere quello di aggiustare il prompt fino a che non si ottiene quello che effettivamente ci serve. Marketer e comunicatori hanno a disposizione degli strumenti velocissimi e a basso costo per generare contenuti per campagne di marketing, siti web, a loro andrà particolarmente bene. Per chi di voi invece è uno sviluppatore, immaginate che vi troverete di fronte delle API, dei servizi di comunicazione macchina a macchina, per cui con poche righe di codice potrete chiamare il server, gli mandate il testo, lui vi rimanda indietro l'immagine generata e questo pezzo di software può essere integrato in qualsiasi altra applicazione. Su che cosa in modo specifico sta a voi trovarlo. Stesso discorso vale per le start-up che hanno a disposizione un mattoncino per creare dei servizi innovativi da verticalizzare in tanti modi diversi. Anche qui vedremo sicuramente proposte interessanti e nuovi milionari. Nei prossimi anni possiamo aspettarci tanti cambiamenti, è l'intelligenza artificiale che sta cambiando la tecnologia e ha cascato anche i servizi alla persona, la cultura e la nostra quotidianità. E proprio l'intelligenza artificiale, se fino a qualche decennio fa era un settore di ricerca abbandonato a se stesso, in questi anni sta diventando una commodity su scala mondiale, un servizio a basso costo che si può utilizzare per fare la qualunque. Data l'enorme competizione che già c'è nel mondo della generazione di immagini, mi aspetto che sarà estremamente facile reperire questi sistemi e quando si deve utilizzare a pagamento costeranno sicuramente poco. Vedremo anche una spinta sempre maggiore alla multimodalità, cioè a sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di maneggiare contemporaneamente testo e immagini e andare da una direzione all'altra. Immaginate che tra qualche anno potremo chattare con un bot e questo bot sarà in grado non solo di scambiare verbalmente messaggi con noi, ma anche di osservare il nostro contesto e rispondere in testo, in voce, in immagini, per cercare di soddisfare i nostri bisogni. Ci sarà nei prossimi tempi sicuramente una spinta per quello che riguarda la generazione di video. In questo i cinesi stanno un po' avanti ma c'è anche qualche startup occidentale che ci lavora con risultati strabilianti. Non solo video, anche il 3D verrà impattato da questi sistemi generativi. Immaginate oggetti 3D e ambienti in 3D che possono essere poi utilizzati all'interno di videogiochi e metaverso. Cosa ne pensate di queste intelligenze artificiali? Vi sentite minacciati oppure li vedete come strumenti? Lasciatemi un commento. Io e il Pollo Vazzalic vi invitiamo a fare un giro sul canale dove trovate altri video come questo divulgativi, ma anche video tecnici su come creare intelligenze artificiali in casa utilizzando il linguaggio Python. Ci sono playlist proprio per utilizzare Python per la manipolazione dei dati, che sono centrali per la creazione di intelligenza artificiale e come costruire dei veri e propri modelli. E con questo, cari intelligenze naturali, io e il Pollo Vazzalic vi salutiamo e ci vediamo al prossimo test di Turing. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!